Il gruppo Fideram San Paolo d'Invest fondamentalmente vicino al territorio vuole in qualche modo promuovere una manifestazione che negli anni è cresciuta sempre di più. Ha ormai 65 anni e questo l'ha portata con varie fasi alterne della sua lunga vita a un momento oggi di particolare attenzione. E questo è il motivo per noi di orgoglio soprattutto per il fatto che sono numerosi gli iscritti. Quest'anno abbiamo superato la soglia dei 100 che era un traguardo che ambivamo a raggiungere e quest'anno abbiamo tante barche venute da lontano. Fondamentalmente siamo convinti che il percorso della regata, gli scenari che si attraversano rispetto ad altre regate sono particolarmente attraenti e soprattutto, cosa importante, forse anche quello che noi come circolo, con la nostra tradizione e l'attenzione nei confronti degli ospiti e degli sportivi ha portato sia qui che poi alla situazione.